E' stata una scoperta l'umanità che cerca di venire fuori nonostante altre persone cerchino di annientarla. Entrare nella mente di persone che uccidevano altri esseri umani, non considerandoli esseri umani non è una cosa semplice da dover comprendere e in quanto comandante delle SS devo giustificare questa cosa. Per me è una storia diversa, non usuale e viene messo in risalto il cuore delle persone attraverso l'arte e noi siamo artisti e quindi lavoriamo anche per voi per raccontare la storia di queste persone che sono morte per l'arte. Grazie